Una pagliara è un ricovero in montagna, qui ci troviamo a 1080 metri di altezza, dove il pastore si costruiva questo ricovero per dormire e mangiare, ma anche per mettere al riparo le bestie che aveva. C'era una continua festa in quanto quando facevano questi lavori ogni pagliaro era autonomo, sufficiente, ma credo, anche se non l'ho vissuto, che ci stava molta allegria. La storia di questo posto secondo me è bellissima perché risale a oltre prima del Novecento. Si deve tornare a vivere qui perché c'è un paesaggio eccezionale e anche la quieti di questo posto è indescrivibile. Non lo si può dire a parole ma bisogna viverlo.